Ciao e benvenuti su bikepacking.it, la vostra risorsa per itinerari, attrezzature, recensioni, tutto quello che serve per iniziare o continuare a viaggiare in bici. Io sono Francesco e oggi parliamo dei vestiti per viaggiare in bici. Come tutto, nei viaggi in bici bisogna stare molto attenti e attente allo spazio. Abbiamo delle borse con una capacità limitata e vi consiglio di non prenderle enormi e quindi dobbiamo calcolare bene cosa ci serve e cosa no. Qui tutto dipende dalla vostra volontà e capacità di accettare un certo grado di disagio. Chi sta al top di questa classifica andrà in giro con soltanto i vestiti che ha addosso, quindi solo la jersey e i bib. Invece chi vuole stare un po' più confortevole potrebbe voler portare degli vestiti in più. Partiamo dalla tipologia di vestiti. Si dovrebbe andare con una jersey, con una maglia, con una felpa, no? Partiamo dalla tipologia di vestiti che si dovrebbe portare in un viaggio in bici. La regola aurea di tutti i viaggi in bici è non portare il cotone, perché le magliette di cotone, come quella che usate magari ogni giorno, hanno una trama tale e una capacità, come dire, di assorbire il sudore che ve le farà durare solo un giorno, praticamente. E non è molto semplice da asciugare e soprattutto si inzuppa. Si inzuppa e puzza. Questo è il motto del cotone. Quindi se vi pensate di portare la classica maglietta per il viaggio, no. Allora dobbiamo vestirci per forza come ciclisti super attillati con quelle maglie che si chiamano jersey? Non per forza. Ci sono infatti delle maglie tecniche un po' più larghe. A cosa servono le maglie da ciclismo? Infatti quelle maglie tutte attillate di materiale plastico servono sostanzialmente per ridurre il nostro attrito sull'aria ed essere così aderenti al nostro corpo che i nostri movimenti sono molto fluidi. Infatti in altre discipline del ciclismo, come per esempio la mountain bike, in cui non c'è questo bisogno tremendo di aerodinamicità, i vestiti sono lievemente più larghi. Basta pensare agli short a mountain bike. Quindi è assolutamente possibile andare a fare dei viaggi con le classiche jersey da ciclismo o quelle che alcuni brand vendono come da avventura, eccetera, eccetera. Però se state cercando un po' più di comfort e non avete proprio la fisionomia, diciamo, da super ciclista, potete anche optare per delle maglie un po' più larghe. Anche perché queste saranno utili fuori dalla bici. Quindi il cotone l'abbiamo escluso subito e non azzardatevi a prenderlo, nel senso è un materiale sicuramente utile perché mantiene un po' più calore, però per sforzi fisici non è decisamente il massimo. Il materiale principe dei viaggi in bici è la lana merino. La lana merino, che potete trovare sia nelle maglie che per esempio nei calzini, è un materiale molto, molto interessante perché ha una trama irregolare che permette al sudore di uscire, ma al calore di rimanere. Quando si dice che la lana merino ha una proprietà termoregolatrice, vuol dire che riesce a mantenere un giusto bilanciamento tra quello che c'è all'interno, cioè la nostra pelle, e quello che c'è al di fuori. Quindi altri strati oppure l'esterno. La lana merino in effetti è un materiale perfetto per i viaggi in bici perché vi permette soprattutto di non puzzare del tutto perché il sudore, come abbiamo detto prima, uscirà dalla trama irregolare di questa fibra. Però quello che trovate in giro non è lana merino al 100%, perché se no sarebbe un po' scomodo da portare. Infatti ogni capo in lana merino è in realtà un blend, un misto di elastene, quindi plastica, quello che permette di rendere elastici i nostri indumenti e ovviamente lana merino. Il consiglio è quindi avere il primo strato di vestiti in lana merino perché permetterà di essere sempre asciutti sulla pelle che è una cosa molto importante per non avere sorprese, specialmente in discesa. Per quanto riguarda invece i pantaloni noi vi consigliamo di usare sempre quelli con il fondello. Dato che pedalerete per anche 10 ore al giorno e quindi è buono avere uno strato in più per salvare il fondo schiena. Una cosa a cui stare attenti quando prendete il vostro bib è le cuciture. Nel senso che specialmente in pantaloncini che costano un po' di meno le cuciture non sono fatte benissimo e a lungo andare, specialmente in questa zona dove avete le bretelle o sull'inguine potrete avere un po' di irritazione per lo sfregamento. Il bib migliore non esiste perché è quello che va meglio a voi ma la cosa che vi consigliamo è di cercarne a qualcuno tagliato al laser perché non ha cuciture oppure ne ha molte di meno. E questi sono i vestiti che avremo addosso quando pedaliamo. Se il vostro livello di disagio è a metà io vi consiglio di portarvi due maglie ma già un secondo bib probabilmente non vi starà nelle borse. Come accessori vi consiglio assolutamente di avere uno smanicato un gilet antivento che vi permetterà di non morire di caldo specialmente nelle salite ma comunque di avere una protezione specialmente sulla zona del torso e sullo stomaco che è molto importante. Diciamo comunque che i vestiti cambiano tanto a seconda del periodo e del posto dove andrete. Noi in questo video daremo per scontato che andremo più o meno in zone italiane o in zone continentali e ci andremo tra la primavera e l'estate. Che vestiti quindi avere invece quando non si è in bici? In realtà anche qui c'è il problema dello spazio delle borse nel senso che scordati di portarti dietro i jeans o in realtà forse un altro paio di scarpe perché semplicemente non ti staranno e anche la felpa rimane a casa. Il consiglio è quello di cercare un pantalone o un semi costume da bagno che potrebbe andare bene perché è molto comprimibile oppure se vai in zone collinari oppure durante la primavera un paio di pantaloni tecnici da montagna che ti tengono caldo alle gambe. Per la parte superiore del corpo invece dovrai vestirti con quello che hai nelle borse da ciclismo potrebbe essere un'altra maglia in più o una giacca a vento. Elencato così può sembrare un assetto molto molto minimale ma in realtà quando incominci a riempire le borse di cose vedrai che lo spazio si esaurerà molto molto presto. Per aumentare il comfort in viaggio a prescindere che tu viaggi con una tenda o meno potresti includere oltre le mutande un altro paio di calzini in più per poterlo cambiare durante i giorni e quindi averne sempre uno fresco oppure una maglia civile una felpa che magari potrebbe essere più comprimibile e che come dire non ti disturba se la rovini che potresti tenere insieme agli altri vestiti nella borsa sottosella. Un altro invito a non portarsi tanta roba da vestiti è che probabilmente non la utilizzerai e questo te lo diciamo per esperienza e soprattutto all'inizio i vestiti ti sembrano che non pesino tanto ma in realtà sommati l'incominci a sentire quando sei all'ottavo giorno e stai salendo sopra una montagna il kit per viaggiare in bici per iniziare potrebbe essere quindi o un base layer in lana merino se sei in una zona un po' più freddina o una maglia a maniche corte in lana merino o di un materiale tecnico come il capilene se sei d'estate avere sempre la giacca a vento o lo smanicato perché il vento ti può uccidere dei bib tagliati al laser oppure con delle cuciture fatte molto molto bene e un doppione della maglia e dei calzini un capo d'abbigliamento che dobbiamo assolutamente portarci sempre dietro perché come diceva la nonna non si sa mai è la giacca impermeabile la giacca impermeabile ce ne sono sì da ciclismo più attillate fatte con colori eccetera eccetera però in realtà anche quelle da trekking vanno assolutamente bene e questo è il kit base per viaggiare in bici trovi in descrizione l'articolo su backpacking.it dove ti potrai anche iscrivere alla newsletter settimanale che mandiamo con i consigli e le novità se hai commenti domande dubbi scrivi pure nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao